Straordinaria apparizione della Vergine Santissima a Međugorje visibile a tutti. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che si è verificato a Međugorje. C'era una persona che stava riprendendo la croce sul podrobo e a un certo punto è apparsa la Vergine Santissima di Međugorje, ha allargato le braccia come a voler accogliere in un caloroso abbraccio, insomma, tutti i suoi fedeli, tutti quelli a lei devoti e quindi è un filmato che indubbiamente ci colpisce tantissimo perché si vede chiaramente la Vergine Santa che appare e cerca di, in qualche modo, scosta da sé il mantello dalle spalle nell'aprire le braccia quasi a volerci accogliere tutti nel suo abbraccio amorevole di madre. È un filmato che è stato realizzato, non si sa, se negli anni 80 o 90, sicuramente dalla qualità della ripresa risulta evidente che non è stato realizzato in tempi recenti con i moderni mezzi, insomma, di registrazione. È un filmato che sicuramente colpisce, che ci dà ancora di più la certezza della veridicità degli eventi che si stanno seguendo a Medjugorje ormai da più di 40 anni. È un filmato quindi che ci invita a pregare ancora di più la Vergine Santissima che ci dà la certezza dell'esistenza in cielo di una madre amorevole, sempre pronta ad accoglierci nel suo abbraccio di amore e di affetto sconfinato verso i suoi cari devoti. Bene, vi lascio a queste straordinarie immagini, sperando vi commuovano e vi emozionino come hanno commosso e emozionato me. A presto, carissimi. Santa giornata. Santa giornata. Una stora di unil borse Per unil borse La stora di unil borse All'interazione La stora di unil borse Che scene Di unil borse Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.